E' slittata ancora di una settimana la ripartenza del campionato di Serie D, ma questa volta la data del 13 dicembre sarà effettivamente quella del ritorno in campo. Dunque, domenica prossima sarà tempo di rivedere all'opera il bitonto. Dopo oltre un mese di allenamenti e zero gare ufficiali e di duro lavoro in una sorta di vero e proprio ritiro precampionato, i neroverdi scenderanno finalmente nuovamente in campo per dare l'assalto alla risalita nella classifica del girone H. Queste settimane di pausa forzata a causa dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 non hanno fatto perdere entusiasmo e voglia ai neroverdi, che anzi hanno utilizzato questi giorni per conoscersi e prepararsi al meglio per la ripresa delle ostilità dopo le innumerevoli difficoltà iniziali. La Serie D riparte da un nuovo protocollo sanitario nato dalla collaborazione tra il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale di Lettanti e la Commissione Medico-Scientifica della FIGC. Tutte le squadre si dovranno obbligatoriamente sottoporre a tamponi rapidi entro 48-72 ore prima della partita. Gli eventuali positivi dovranno essere posti immediatamente in quarantina e isolati dal resto della squadra, mentre le gare potranno essere rinviate solo se nel gruppo squadra risulteranno positivi al Covid-19 più di tre elementi. Il rinvio potrà essere richiesto ed ottenuto se i tre positivi risulteranno essere invece tre under. Queste dunque le nuove regole sanitarie per riprendere la Serie D. Ma come il Bitonto si appresta al ritorno in campo? Lo abbiamo chiesto a mister Giuseppe Alberga, collaboratore tecnico di Nicola Ragno. Non avendo fatto la preparazione questi giorni ci sono serviti per preparare al meglio la squadra sotto l'aspetto organico. Hanno lavorato veramente bene, sono dei ragazzi veramente eccezionali, però certamente dopo già tre settimane di stop abbiamo bisogno di giocare e valutare sul campo tutti questi progressi che abbiamo fatto. La società che ha subito veramente è un gruppo genuino con ragazzi eccezionali, però anche loro ora stanno soffrendo la mancanza della partita.